Io faccio il poliziotto buono e il mio compagno è il poliziotto cattivo. Ce ne saranno delle belle. Uno, due, tre, vai, parto! Sarà emozionante vedermi in questa docuserie, dopo aver visto tante altre, sono curioso di vedere come uscirò. È un po' imbarazzante, soprattutto perché non so quello che mi aspetta. Come esperienza è stata un po' strana, no? Perché noi siamo abituati a essere seguiti dalle telecamere, però in campo. Non l'ho ancora vista e quindi è tutta una sorpresa. Che non è tutto, nostra vita è così facile come si sembra da fuori a volte e che soffriamo in molti momenti quando le cose non vanno bene. Sono molto curioso e nello stesso tempo con un po' di imbarazzo. Ci posso pensare un attimo? Morata. Seria Weston McKennie perché credo che è più normale all'Istituzione e lui è un buon personaggio. Cristiano che dice sempre che lui è un grande attore. McKennie, ogni faccia che fa sembra una caricatura, quindi lui sicuramente ne verrà fuori bene. Conosceranno un'altra parte di me, ma a livello professionale. Diciamo che io faccio il poliziotto buono e il mio compagno è il poliziotto cattivo. Sono uno che si avvelena facilmente, lo sanno e lo vedranno anche nella serie, da quello che ho visto nel trailer. Quindi mi aspetto delle belle scene. Lo spogliatoio. Ci sono dei ragazzi che si vedono, dei ragazzi disabili che ho visto crescere. è una scuola a calcio che per loro che ho fondato un po' di anni fa e che mi riempiono il cuore. Uno, due, tre, vai, parto. Ce ne saranno delle belle. Si va a poter vedere un pochino più di circa lo che è la Juventus, non solo come società, come equipos di futbol, ma anche come gruppo di persone. Capire veramente la storia e quello che è la Juventus in Italia e in tutto il mondo. Simpatica, divertente. Guardatela. Dieci su dieci. È la serie più bella di una squadra sportiva che vedrete mai. Grazie.